Quindi cosa si fa? Vedete come, innanzitutto, si prende, ok, il sapore è leggermente alcolico, si toglie, si ha fatto una leggera crosticina, ok? Allora, prima di tutto andiamo a guardare, quindi, alveoli leggermente allungati, colore ocra, bianco tenente all'ocra, sapore leggermente acidulo, pizzica appena lo metti in bocca, ha anche una nota dolce, sente l'acido acetico, un po' alcolico, no? Ed è un lievito in forma.